Sai come indossare una mascherina? Come mantenere le distanze? Come starnutire? Ma per proteggere le tue mani, sai cosa scegliere? Un'igienizzante rimuove in parte virus e batteri? Amuchina Gelix Germ è un disinfettante e li elimina fino al 99,9%. Scegli la protezione disinfettante di Amuchina Gelix Germ. Attivo sui virus. Amuchina Gelix Germ, il disinfettante che ti protegge. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni d'uso. D'Angelini